Forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai, ale, 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 milanale, forza lotta, vincerai, non ti lasceremo mai. Amici e amiche, buonasera! Ma state godendo? No, io non sto godendo, di più, di più! TV, ore 17.29, ragazzuoli belli, Mila Fiorentina 1-0, io prima di tutto voglio fare un applauso a tutti i tifosi rossoneri che sono andati a San Siro e a noi che siamo stati davanti a TV a soffrire come delle bestie. Che sofferenza, io sono distrutto, ma dobbiamo andare avanti così fino al 22 maggio, non ce la faccio più. Dai, Inter, muoviti, Inter, muoviti a perdere contro l'Udinese, ne rompe le balle. Ripeto, sono le 17.30, la partita degli altri lì deve iniziare alle ore 18.00. Ragazzi, che spettacolo, che spettacolo, sono contentissimo, sono contentissimo. Ma siete contenti voi altri, siete contenti. Allora, io vi dico la verità, ultimamente per me vedere le partite del nostro Milan, purtroppo per motivi di mancanza di tempo davanti alla TV, è diventata una sofferenza incredibile. Non ce la faccio più, ragazzi, io ve lo dico, non ce la faccio più. Allora, vi spiego un aneddoto, poi se mi volete credere bene. Alla fine di questa partita, Milan-Fiorentina 1-0, mi stavo quasi commuovendo, soprattutto subito dopo il gol di Leao, perché Leao ha esultato, ma l'ha dichiarato anche lui ai microfoni di Dazon, neanche troppo, perché era troppo teso, era troppo in tensione. La stessa cosa io, ho esultato, ma non troppo, perché ero troppo in tensione, ero arrabbiato che non riuscivamo a fare gol, mille occasioni davanti alla porta della Fiorentina, non siamo riusciti a buttarla dentro, prima del gol di Leao. Ero troppo teso, abbiamo fatto il gol, ho tirato un urlo, gol, ma poi ero lì, felice, commosso. C'è una sensazione, sensazioni varie, ragazzi, ve lo dico sinceramente. Poi ognuno di noi esulta in una maniera diversa dall'altro, però la tensione, ha ragione Leao, la tensione ti racchiude tutto dentro, perché è stata dura, è stata dura, sono dure tutte queste partite, tutti i nostri avversari si dannano l'anima per giocare contro il Mina. Io non so perché alcuni incontrano le altre squadre, manco per il cavolo incontrano il Mina. Poi adesso ha maggior ragione che sanno che andiamo in mano ai petrol dollari, ciao, questi qui sono completamente impazziti, ormai giocano contro il Milan col coltello tra i denti per farsi vedere e mettere in mostra ed eventualmente farsi comprare. Questa è la verità, ragazzi. Ho visto un Ibrahimovic molto spento, molto rattristato, ovviamente è morto Raio, era un suo grande amico, oltre che agente, però ho visto un Rafa Leao, a fase alterna, scusate, che comunque il suo dovere l'ha fatto, il gol che ha fatto sul finale della partita al secondo tempo. Ragazzi, è stata una libidine incredibile. Ma che libidine, doppia libidine! Comunque sono sfibrati. Ragazzi, che tensione! Cioè, andrà avanti così fino al 22 maggio? Ma va, dai! Cioè, ma Inter non romper le balle, dai, scansati, metti da parte! Ma perdi sta partita, pareggia, non rompe le balle, dai! Cosa sta qua fino al 22 maggio così? Dai, ma per favore! Comunque, ragazzi, ve lo ripeto, commuovente, commuovente. Cioè, io mi sono quasi commosso perché... Insomma, tutta la nostra stagione, se ci pensate bene... Ah, a proposito, c'è un giornalista che menzionerò alla fine del campionato. E alla fine del campionato menzionerò questo giornalista come ho fatto col nostro ex portiere più di una volta. Perché questo giornalista, lui, è il capo stipite, il boss, l'apoteosi del giornalismo che non esiste, del giornalismo che non ha una logica, che non ha un senno. Cioè, vuol dire che non ha... non c'ha intelligenza. Però lo menzionerò alla fine del campionato, con i dovuti riguardi, con molta simpatia e, diciamo, con ironia molto sprezzante, diciamo, molto forte, da un certo punto di vista. Ma, caro giornalista, ti sto aspettando al Varco. Alla fine di questo campionato faremo i conti. Perché ho messo da parte il tuo articolo, ho messo da parte... Ho fatto lo screenshot, perché con gli screenshot si può fare qualsiasi cosa. Mettere da parte qualsiasi cosa. Però, ragazzi, vi stavo dicendo, comunque... Una partita sofferta. Tutta la stagione è stata una stagione sofferta. Una stagione di tanti infortuni. Di tanti soprusi, torti arbitrali. Avversari che lottavano contro di noi come se avessero visto, non so... Il peggio del peggio sulla faccia della terra. Insomma, è stata tutta una sofferenza. È stata un'annata comunque difficile, questo va detto. Stiamo concludendo questo campionato in una maniera, secondo me, commuovente. La parola è questa, commuovente. Comunque la goduria è immensa. Milan-Fiorentina 1-0. La goduria è immensa. Però questo finale del campionato del Milan è commuovente. Commuovente perché... Adesso dico una cosa che già sappiamo, ma... È un dato di fatto. Questa partita è stata una partita difficile, dura, ma... Il Milan è una squadra vera. Questo bisogna dire. È una squadra vera. È una squadra che sa comunque soffrire, sa attendere, sa aspettare. Lo ha detto anche Pazzini. Se il Milan non aveva pazienza, forse questa partita non la portava a casa. Ha avuto pazienza, ha detto Pazzini, e l'ha portata a casa. L'ha fatto capire Ambrosini ai microfoni di Dazon. Stefano Pioli contentissimo. Il nostro Milan, alla fine della partita. Orgoglioso lo ha ripetuto dei nostri ragazzi e della nostra dirigenza. Lo ha ripetuto ai microfoni di Dazon. Come si fa a non essere orgogliosi di questa dirigenza? Parliamoci chiaro. Però è un finale commuovente che renderà ancora più dolce quello che ci aspetta. È un qualcosa di incredibile. È un qualcosa che il mio modo di vedere, se tutto va come deve andare, ma tutto andrà come deve andare, ci lancerà nell'Olimpo definitivamente. Cioè, siamo come un razzo pronto a scoprire qualcosa di nuovo, qualcosa di esaltante, qualcosa di mai visto prima, perché abbiamo accantonato l'epoca di Berlusconi, ma questa che si sta prendendo è una nuova epoca completamente diversa. Completamente diversa. Ho già capito che la nuova proprietà è una proprietà avanguardista. Cioè, guarda nel futuro, guarda oltre. La proprietà di Berlusconi, come è stata quella dell'Avvocato Agnelli, di Massimo Morati, di tutte quelle famiglie storiche che hanno fatto la storia del calcio italiano, sono il passato. Quel tipo di famiglie non tornano più. Il calcio è un qualcosa di diverso, ma Berlusconi già lo disse in passato. Con l'entrata degli scecchi nel calcio tutto è cambiato, lo disse Berlusconi. Adesso il calcio è un qualcosa di nuovo, è un qualcosa di più strutturato, qualcosa di più grande ancora. E noi siamo lanciati verso quell'Olimpo, c'è poco da dire ragazzi. E niente, vi saluto tutti. Forza Mina sempre, comunque, ovunque. È uno spettacolo. È uno spettacolo!